Le nuove di sesso da fine, le ghe non sono formato, non mi hanno vengono cose, non mi hanno segno bene, sono formato, sono formato, sono formato, non mi hanno vengono, sono formato, sono formato, sono formato. Oggi saurè, aù la c'è, oggi saurè, o beri omo, oggi saurè, aù la c'è, oggi saurè, o beri omo, aù la c'è, oggi saurè, aù la c'è, o beri omo, che non chiede camminare, perché non chiede, perché ne falta, di nevo para gastare, la cucaraccia, la cucaraccia, Le nuove di sesso, che non chiede camminare, perché ne va para gastare, o come, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.